Il prossimo 17 aprile, gli italiani dalle 7 alle 23 sono chiamati alle urne per votare al referendum abrocrativo sulle trivellazioni. Tutto il referendum si basa sulla testuale frase per la durata di vita utile del giocimento, che riguarda la durata delle concessioni per estrarre idrocarburi. I titoli di norma sono concessi per 30 anni. La compagnia concessionaria può chiedere una prima proroga di 10 anni e altre due di 5 ciascuna. La legge di stabilità 2016 parla di vita utile del giocimento, che significa allungare una concessione in modo indefinito. L'intenzione dei promotori del referendum è quella di fermare le trivellazioni e mettere fine alla ricerca e all'estrazione di petrolio e gas nei mari italiani, entro il limite di 12 miglia notiche che definisce le acque territoriali. Ma un referendum non può proporre scelte così articolate, può solo abrogare delle norme esistenti. Certo, potrebbe essere un segnale politico a esprimere il volere dei cittadini. Se vincer sì, le piattaforme oggi attive continueranno a lavorare fino alla normale scadenza della concessione o dell'eventuale prologa già ottenuta, ma poi andranno smantellate. In questo modo la vita delle piattaforme non si potrà allungare all'infinito e le attività petrolifere andranno a scadenza. I critici delle trivelle spiegano che i giacimenti italiani sono poca cosa sul binaggio energetico e non incidono molto. Ma cosa succede se non si raggiunge il quorum o vince il no? Lo stop che prevede il referendum riguarda più il gas metano che il petrolio. In Italia il petrolio viene estratto per la maggior parte a terra e non in mare. Gli impianti che saranno oggetto del referendum estraggono fondamentalmente metano e sebbene fossile è una fonte di gran lunga meno dannosa del petrolio e ancora per molti versi insostituibile. La vittoria del sì porterà comunque alla costruzione di altri impianti e non potrà impendire alle compagnie di spostarsi e costruire nuovi impianti poco oltre questo limite. Praticamente la vittoria del sì non scongiura il rischio ambientale, anzi contribuisce ad aumentare l'export petrolifero e quindi anche l'inquinamento. Se immaginiamo un disastro ambientale, un grave incidente a una piattaforma petrolifera posizionata correttamente e cioè oltre il limite delle 12 miglia, un miglia in più di certo non fa la differenza. Questo è uno dei punti centrali di chi è a favore del no. E' anche vero che la vittoria del sì non si traduce in una politica immediata a favore delle energie rinnovabili che a conti fatti da sole non possono ancora bastare. In un futuro, forse ancora troppo lontano, si auspica l'utilizzo esclusivo di energie rinnovabili. In altre parole, se togliamo il gas e il petrolio, bisogna essere in grado di sostenere subito il Paese in un altro modo altrettanto efficiente. Infine, i sostenitori del no affermano che il referendum è illegittimo. Falleva sulla disinformazione dei cittadini e sulla cattiva immagine che una trivella ha nell'immaginario comune. Non è un referendum lo strumento più adatto per risolvere un tema così complesso e così tecnico. O meglio, potrebbe esserlo se fossimo tutti esperti di coltivazione di idrocarburi, ma non lo siamo. Il referendum sulle trivelle, in fondo, dovrebbe sollecitare un ripensamento della politica industriale del Paese. Grazie a tutti.